Ci sono poi altri contenuti multimediali che sono più di tipo ludico, questo è praticamente un'unicità che è la guida della messa a fuoco che è molto carino, ad esempio abbiamo visto l'emurcatta e facendo questa opera che si chiama skimming, si riesce a mettere a fuoco l'animale nelle sue diverse profondità per cui porre l'accento dell'attenzione su un particolare livello, magari partendo dal fondo, dal pelo, dalla tipologia di pelo, fino ad arrivare al muso, agli occhi, allo sguardo, fino al naso e questa è veramente un'unicità della nostra guida.